Partiamo da Caporale. Beh, certo che è giusto, innanzitutto perché comunque in Italia stiamo provando per la terza volta a raccogliere firme per un referendum che abolisca finalmente anche nel nostro paese la caccia, che comunque non è uno sport, perché come sappiamo lo sport presuppone una competizione tra partecipanti avendo uguali capacità competitive. Lo sport, la caccia, quindi è uccisione di un essere vivente per divertimento, per piacere. Quindi c'è da fare questa premessa. Comunque la caccia è uno sport, è un modo per uccidere esseri viventi. Del resto io provo a fare un riferimento, non ho contrapposto. Se addirittura anche la Chiesa si è evoluta, il Papa Giovanni, ad esempio Paolo II ha usato una frase bellissima, gli animali sono la parte più piccola della creazione divina, ma noi un giorno li rivedremo nel mistero di Cristo. Come possiamo pensare di giustificare chi uccide esseri viventi non per necessità, non per bisogno, non per legittima difesa, ma per divertimento? Allora, tra l'altro devo dire una cosa, è vero che siamo in periodo di caccia, è vero che il ragazzo di 23 anni, che è giustificato dalla fidanzata e dal padre, ha ucciso legalmente, però non tutto ciò che è legale è accettabile moralmente. Tra l'altro il nostro ufficio legale sta valutando invece la possibilità di denunciarlo, perché ormai Bambotto si potrebbe quasi considerare ormai come fosse diventato un animale domestico, il dottor Del Debbio, quindi si passerebbe dall'avevo ucciso un animale selvatico, poi lo vedremo con il giudice, col tribunale, all'avevo ucciso un animale che ormai si era addomesticato, e qui possiamo anche discutere se è giusto o meno, però di fatto Bambotto da sette anni viveva con le famiglie, con persone che lo accoglievano, dormiva a casa di questa signora che ha scritto... Grazie a tutti!